Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo al bilancio comunale 2016, approvato ieri sera dalla Sise Civica. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se non passava si rischiava il commissariamento e tutti i consiglieri sarebbero andati a casa. La Sise Civica l'ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto. Lo spettro che alleggiava sul Consiglio Comunale Vigela non c'è più. Lo tsunami politico è stato scongiurato. All'una della scorsa notte la Sise Civica ha votato il bilancio di previsione 2016. Lo strumento finanziario è fondamentale per gli equilibri dell'ente comunale. Se non passava si rischiava il commissariamento e tutti i consiglieri sarebbero andati a casa. Il Consiglio Comunale lo ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, ovvero la Presidente Alessandra Acia. Il voto favorevole è stato espresso da Giuseppe Ventura, Antonino Biundo e Cristian Malluzzo di Adesso Gela, da Guido Sidagusa e Sandra Bennici del Polo Civico, da Antonio Torrenti e Maria Pingo del Megafono, da Vincenzo Cascino e Anna Comandatore della lista Musumeci, da Francesca Caruso e Luigi Di Dio di Reset 4.0, da Salvatore Sammito di un'altra Gela, dagli indivendenti Carmelo Casano, Sara Cavallo e Angela Di Modica e dall'esponente Udc Giovanni Panebianco. Il no, così come già anticipato negli ultimi giorni, è stato ribadito da Salvatore Scerra di Forza Italia, dal gruppo del Partito Democratico con Enzo Cedignotta, Romina Morselli, Salvatore Gallo e Carmelo Orlando e dal Movimento 5 Stelle con Enzo Giudice, Simone Morgana, Virginia Farruggia e Angelo Amato. Come dicevamo, si è astenuto il Presidente della Sese Civica, Alessandra Acia. Non sono stata coinvolta nella programmazione dello schema di bilancio elaborato dall'amministrazione sin dalla fase iniziale ha spiegato il Presidente, non sento di esprimere una valutazione positiva o negativa. Ritengo si tratti anche di rispetto istituzionale e mi auguro che questo Consiglio Comunale, in primis, abbia capito il mio punto di vista. Per queste ragioni, con il ruolo imparziale di Presidente del Consiglio Comunale, mi sono astenuta. E sulla provazione del bilancio sentiamo il Sindaco Domenico Messinese e l'assessore Fabrizio Morello. Un bilancio che giustamente i consiglieri con i propri emendamenti hanno fatto proprio, con interventi mirati al bene della collettività, con particolare attenzione, aver rivolto ai ragazzi con dei parcheggi che sono stati inseriti nel max emendamento perché non c'era copertura nella prima presentazione, con attenzione alla farmacia sociale, con attenzione ai più deboli, con attenzione alla viabilità, con attenzione a quelli che sono degli interventi per il bene collettivo. Quindi un grosso applauso per questi emendamenti che hanno dato un'impronta molto più democratica del bilancio, superando quelli che sono i soli numeri che giustamente all'interno di un bilancio sono presenti e che purtroppo sono vincolati da dei limiti fisici in base alle risorse. Quindi si è raggiunto questo importante risultato perché dà finalmente all'amministrazione uno strumento, che è lo strumento quello economico, per poter dare delle risposte al territorio. Non saranno sicuramente tutte, ma cominciamo a dare le prime risposte. Credo che sia molto importante. Le parti fondamentali di questa manovra sono innanzitutto nel riuscire, con grandi sforzi anche tecnici, di mantenere quelli che sono i servizi essenziali e mantenere quindi una spesa di fatti corrente che serve per l'emmenza scolastica piuttosto che per gli anziani o quelle che sono le spese ordinarie di questo end in un contesto di difficoltà in cui si trovano risorse che diminuiscono nel corso degli anni. Solo quest'anno l'incidenza è stata di circa 10 milioni in meno, per cui gli sforzi in questa direzione sono notevoli. L'obiettivo raggiunto con questo bilancio è proprio quello di mantenere una spesa e consolidare una spesa importante per questo ente. Questo è l'obiettivo principale che ci siamo preposti e che con l'approvazione di ieri è stato raggiunto innanzitutto. Sono da accertare le cause dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla statale 117 bis Giallacatania nei pressi del Bivio per Niscemi e Mazzarino in Contrada, Ponte Olivo. Due le auto coinvolte, si tratta di una Fiat Uno e di una Ford Focus. Quattro persone, tutte a bordo della Focus, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Cambiamo argomento e parliamo del terremoto che ha interessato il centro Italia. Paura tra i giolesi che si trovano nella zona coinvolta dalla sisma. Sentiamo la testimonianza di un universitario. Treva ancora la terra nel centro Italia. Un'altra notte di paura dopo le tre forti scosse in poche ore. C'è un morto, ci sono alcuni feriti, migliaia, gli sfollati. Paura, ansia tra la popolazione marchigiana e Umbra. Le repliche del terremoto avvenuto alle 19.10 di ieri nella zona fra Perugia e Norcia sono state almeno 200. Sono state più di 30 quelle di magnitudo pari o superiore a 3. L'epicentro nella Valnerina, nelle Marche. Le più forti alle 19.10 di magnitudo 5.4 e di 5.9 alle 21.18, più intensa e duratura. Un'altra scossa è stata registrata alle 23.42 ed è stata di magnitudo 4.6, secondo i rilevi dell'Istituto Nazionale di Geofisica. L'epicentro è stato localizzato nella stessa zona delle scosse del pomeriggio e della sera. In quella zona ci sono numerosi gelesi, chi per lavoro, chi per studio. Tra loro c'è Antonio Burgio, un ragazzo di 23 anni che frequenta il corso di laurea di biotecnologie nell'Università degli Studi di Perugia. Stiamo abbastanza bene perché a parte la paura che c'è stata ieri sera, la scossa si è sentita abbastanza forte, pur essendo a 60 km dall'epicentro. La prima scossa si è avvertita verso le 7, 7 e mezza. Ero sul divano di casa e abbiamo notato che il divano stava incominciando a tremare. Sono stati tre secondi, tre secondi di reale paura e non c'è stato neanche il tempo di uscire di casa. Essendo compaesani ci siamo consolati a vicenda e sono stati attimi di paura vissuti insieme. Una notte all'addiaccio, quella penata scorsa, Antonio e i suoi amici hanno dormito in macchina. Abbiamo dormito in macchina perché alle 11 c'è stata una terza scossa e per paura che la casa si fosse lesionata abbiamo dormito in macchina tutta la notte. Siamo rientrati verso le 7 del mattino in casa. Nella zona del terremoto da ieri imperverso il maltempo. È iniziato in temporale verso le 6 del pomeriggio, ha piovuto tutta la notte, infatti non siamo riusciti a dormire proprio per la forte pioggia che batteva sulla macchina. Scuole chiuse questa mattina in attesa che la protezione civile intervenga per metterla in sicurezza. C'è arrivato un comunicato dal magnifico rettore di Perugia che ha sentenziato la chiusura dell'università e delle scuole, di qualsiasi ordine grado. Adesso stiamo cercando di chiamare i vigili del fuoco per controllare le nostre case che siano sicure e abitabili. Speriamo di non avere più altre scosse del genere perché sono state veramente paurose. Entro il prossimo 30 novembre al Comune di Gela le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli. L'ho reso noto l'assessore ai servizi sociali Licia a Bela. Hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7500 euro. O le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro. Sono esclusi dal contributo i morosi che non propiedono a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa agevolata riservata ai pensionati. Modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici del segretario sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune. L'importo dell'agevolazione verrà definito dall'aggiunta municipale retta dal sindaco Domenico Messinese sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto. Il fondo assegnato al Comune di Gela per il 2016 ammonta a quasi 42.000 euro. Un grave lutto ha colpito la famiglia di Canale 10. Si è spento a seguito di una malattia all'età di 80 anni. Giuseppe Cammalleri, padre di Saverio Cammalleri, digital editor del TG10.it. All'amico Saverio e alla famiglia le condiglianze da parte di tutti noi. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella chiesa del Carmine. Vogliono riscattarsi dopo aver scontato i propri conti con la giustizia. Loro sono i fratelli Rocco e Angelo Bassora, fautori della nascita di una situazione di ex detenuti. Però non trovano lavoro. Porte chiuse ovunque. Solo lavori saltuari e tante promesse non mantenute. Non trovo lavoro perché il sindaco Crucetta, all'epoca oggi presidente della regione, ha fatto un protocollo di indesa contro le mafiose oppure contro quella che c'è nell'aggravante dell'articolo 7. Per questo motivo l'amministrazione comunale e tutte le persone che io chiedo lavoro non me ne danno perché avranno problemi. Lei ha chiesto anche l'aiuto dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Messinesi. Che risposte ha avuto? Ho avuto risposte negative. Con tutta la buona volontà che io ho messo, ho fatto volontariato, ho pulito Gela. Per quanto riguarda il volontariato, io posso andare dovunque. Per quanto riguarda un piccolo stipendo, un stipendo decente, trovo le porte chiuse. Da qualche mese a questa parte i fratelli Bassora ripuliscono il giardino dell'Acropoli adiecente al museo archeologico grazie ad un accordo con il Lions Club. Poi il nulla. Noi stiamo dimostrando di nuovo per la millesima volta di sapere lavorare e di avere volontà di lavorare. Noi stiamo lavorando là per un piccolo contributo mensilmente che non è niente, però con questo contributo non si può vivere. Io chiedo per la millesima volta all'amministrazione comunale di avere una sensibilità di darci un posto di lavoro e noi dimostriamo di sapere lavorare. Io ho invocato striscia alla notizia, le Iene, quinta colonna. Ora mando un'email a Barbara Russo perché è veramente difficile vivere senza avere un piccolo stipendo. Io con tutta la mia buona volontà sto avendo difficoltà. Io sempre mi metto in mano a Dio e alla sensibilità di questa amministrazione comunale. Quando vi presentate ad un'impresa, ad un'azienda, ad una ditta, ad un negozio, cosa vi dicono esattamente? No, io mi devo cautelare perché ho paura anche io perché se ci vado la possono prendere anche come minacce. Allora io evito di andarci perché sicuramente troverò le porte chiuse. Anche quando ho fatto anche io una piccola intervista per quando pulire le vetrine dei negozi con tutta sempre la buona volontà di avere un'offerta e ho trovato le porte chiuse perché mi hanno detto che le puliscono le commesse. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una mano d'aiuto al comune. L'ultimo appello che io lancio al sindaco è di trovare un escamotasci, sembra sulla normalità e sulla legalità, di farci lavorare perché l'amministrazione comunale precedente ci ha fatto lavorare. Come mai questa amministrazione non ci fa lavorare? Lei ha una moglie e tre figli. Le chiede una conclusione. Come fate a vivere? Vivo con la grazia di Dio. Io mi metto in mano a Dio e con l'aiuto di Dio vivo tutti i giorni. Donna e lavoro quando la leadership crea innovazione e cambiamento è il tema del convegno organizzato dal comitato di presidenza distrettuale FIDAPA che si trarrà sabato 29 ottobre alle 10 nell'aula magna del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Niscemi in via Carlo Alberto della Chiesa. Saranno presenti tra gli altri il presidente Rosa Maria Lascola e le rappresentanti di Gela Angela Incardona, pasto presidente e il presidente Rita Salvo. Ottobre, lo ricordiamo, è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa, tra i 50 e i 69 anni, possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita. Fai la cosa giusta. Differenzi ai rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti. Contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci in seconda parte del telegiornale, diffondere un metodo condiviso è l'obiettivo che la protezione civile da anni promuove a carattere nazionale, una formazione che in stretta collaborazione con gli enti territoriali ha promosso la crescita di una cultura di protezione civile condivisa e rispondente alle esigenze sia degli operatori che dell'intera collettività. Con questo proposito si darà domani alle 17 verso la sala congressi della pubblica assistenza Procivis protezione civile di Gela in via Ossidiana 23 un incontro sul tema conosci, rispetta e vivi il tuo territorio. Il rischio perché relazionerà il geologo Sottotore Saia, funzionario e responsabile dell'ufficio provinciale di protezione civile del libero consorzio comunale di Caltanissetta. E adesso parliamo di libri consorzi e città metropolitane. Il sindaco di Gela Messinese scrive al governo e all'assemblea regionale siciliana. Intanto le elezioni di secondo grado per i libri consorzi e le città metropolitane non si terranno il 20 novembre, data già fissata dal governo regionale, ma il 26 febbraio del 2017. La regione siciliana prende a coscienza dei propri errori e contestualmente al tempo impiegato per rinviare le elezioni nei libri consorzi onori la volontà popolare aggregando Gela e gli altri comuni alla città metropolitana di Catania. Lo ha chiesto il sindaco Domenico Messinese in una lettera aperta al governo e al Parlamento regionali. Il primo cittadino continua così la battaglia è ingaggiata assieme ai sindaci di Niscemi, Piazza del Merina e Licodia e Obea che non si sono visti di conoscere la loro volontà di mutamento territoriale delle loro ex province suffragata da un referendum. La democrazia è questione troppo seria per essere trattata con leggerezza, ha detto il sindaco. La democrazia rischia di essere devastata dall'arroganza e dalla non rispetto delle leggi, soprattutto quando i responsabili sono i massimi rappresentanti delle istituzioni pubbliche. La volontà dei cittadini di Gela, Niscemi, Piazza del Merina e Licodia e Obea si è espressa senza equivoci con un referendum e due delibere di consiglio comunale per modificare la loro appartenenza territoriale. Nonostante ciò la regione siciliana, anziché adempiere con gli atti conseguenti prescritti dalle sue stesse leggi, ignora quanto hanno deciso i cittadini e indice le elezioni dei libri consorsi e delle città metropolitane, senza tenere conto delle variazioni territoriali che impediscono il corretto svolgimento dell'espressione popolare e democratica con l'impedimento delle corrette manifestazioni di voto. Ricordiamo al Presidente della Regione e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, ha detto ancora il sindaco, che fare spregio al voto popolare è legittima la loro stessa ragione d'essere. Mettere in discussione certi principi inarenabili innesca una pericolosa messa in discussione delle istituzioni che in questo momento nessuno può permettersi di compiere. Con 41 voti a favore, 12 contrari e 7 astenuti, l'Arsa ha approvato la norma che rinvia al 26 febbraio 2017 le elezioni per gli organismi dei liberi consorsi di comuni e città metropolitane che erano già state indette per il prossimo 20 di novembre. La norma che è arrivata in aula sotto forma di emendamento al DDL sul garante per la famiglia è stata stralciata e votata come autonomo disegno di legge e norme transitorie in materia delle elezioni di area vasta. Ieri in aula già il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Salvatore Cascio, aveva detto che il motivo dell'invio è stato determinato da un problema tecnico legato ai comuni che, pur avendo lo stesso peso ponderato, avrebbero avuto un numero differente di rappresentanti negli organismi degli enti di area vasta, dal momento che alcuni sono andati al voto con la vecchia legge e altri con la nuova legge elettorale che ha ridotto i consiglieri. Di indirizzo contrario invece, sin da subito il Presidente della Regione Rosario Crocetta che con un comunicato inviato in mattinata spingeva affinché rimanesse la data del 20 di novembre. Dal punto di vista politico pare che invece gli alleati di governo in numerose riunioni non avessero trovato la quadra uno degli elementi dirimenti Sicilia Futura che più volte ha dichiarato la necessità di andare con una lista propria, mentre PD e Udc avevano già confermato la lista unica secondo un'alleanza palermitana da mutuare in tutti i capoluoghi di provincia. Inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Unitrei di Gela, presieduta da Angela Scagliore Altamore. Si svolgerà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela. Saranno presenti tra gli altri Aldo Cibora, il dirigente scolastico Giochino Pelitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro. Appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film Lettere da Berlino. Sono due gli orari, 19.30 e 21.30. Ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale all'antidoto di Macchitella. Il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre. Ricordiamo che l'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Nuova stagione teatrale anche all'Eschilo dall'8 novembre. In scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione. In questo caso il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.